Parlo dei giovani che vengono a formarsi in delle realtà familiari con dei grandissimi sacrifici e dove la forbice sociale, se mi permettete, aumenta ancora di più perché coloro che si formano in delle famiglie ambienti avranno la possibilità di andare fuori Italia, investire, realizzarsi e rappresentare la classe dominante del futuro. Altri invece, che si sono formati con grandi sacrifici non hanno nemmeno la possibilità di poter superare il piccolo perimetro del loro comune nonostante il loro impegno sia stato massivo nel formarsi e nel creare un ordito sociale che si basi in temi di solidarietà e di formazione.